Ti sei mai chiesto se la prossima edizione di Ballando con le stelle inizierà prima del previsto? Le ultime indiscrezioni sembrano suggerire proprio questo. Millie Carlucci, dopo il talent show La Chiappa Talenti, tornerà alla guida di Ballando con le stelle e ci sono voci che parlano di una possibile anticipazione della messa in onda. Secondo le ultime notizie, la Rai sta valutando seriamente l'idea di far iniziare lo show già entro la terza decade di settembre, con una preferenza per il 28 settembre. Questo potrebbe portare a un allungamento della trasmissione, con qualche puntata in più per permettere alla Carlucci di rimanere più a lungo sullo schermo. Ma le novità non finiscono qui. Sembrerebbe che un eventuale allungamento di Ballando con le stelle, potrebbe coincidere con un budget più alto del previsto per Millie Carlucci. Questo significherebbe la possibilità di ingaggiare VIP di primo piano nel cast, con la presenza di nomi importanti come Mara Maionchi. Inoltre, non è da escludere che anche tale e quale show di Carlo Conti possa subire delle modifiche, con la necessità di trovare un sostituto per Loretta Goggi. Ci saranno presto news in tal senso, quindi resta sintonizzato per scoprire tutte le novità. Che ne pensi di queste possibili novità? Sarà interessante vedere se Ballando con le stelle avrà davvero qualche puntata in più del previsto e un maggior budget a disposizione. Questo potrebbe portare a una nuova ed entusiasmante edizione del programma, con ospiti di grande rilievo e tante sorprese in serbo. Non vediamo l'ora di scoprire cosa riserverà il futuro per Ballando con le stelle e per Millie Carlucci. Resta connesso per non perderti nessuna novità su questo amato show televisivo e preparati a ballare insieme alle stelle.